Il quinto e ultimo modulo del nostro corso si concentra sulle competenze imprenditoriali. Qui partirai dalle conoscenze acquisite nei moduli precedenti e imparerai come creare tour urbani digitali sostenibili e inclusivi all'interno delle industrie creative e culturali. Il modulo è diviso in tre parti principali. La prima parte è incentrata su imprenditorialità, sostenibilità ed inclusione. Fornisce una panoramica sull'imprenditoria sociale, sulla pianificazione aziendale e strategie di business sostenibili. In particolare imparerai come sviluppare tour urbani digitali ed inclusivi. La seconda parte del modulo introduce la pianificazione strategica e il marketing e fornisce consigli utili sulle politiche di marketing inclusive, sulla leadership digitale e su come creare un team forte. La terza parte esplora l'importanza della creatività nelle imprese sociali e l'uso delle innovazioni tecnologiche nello sviluppo di tour urbani digitali. Alla fine del modulo puoi trovare alcuni strumenti digitali che ti aiuteranno nel processo di formazione del tuo business inclusivo e sostenibile. Dopo aver completato questo modulo e questo corso avrai un'idea migliore su come sviluppare un'imprenditoria sociale, sostenibile ed inclusiva, impostare i tuoi obiettivi di pianificazione strategica e marketing e utilizzare le innovazioni tecnologiche per migliorare sia il tuo modello di business che le tue esplorazioni urbane. Grazie a tutti.